presentata nella sede della sala consigliare del palazzo di città rosolini la manifestazione sud est in fiera che si svolgerà dal 19 al 27 settembre nell'area di protezione civile di rosolini una manifestazione che lega fiera campionaria e quindi artigianato commercio prodotti tipici e arte anche la quinta edizione del festival del cavallo tutto nel pieno rispetto dell'enorme anticontagio circa 50 gli stand espositivi oltre mercatini artigianali l'area food dell'area ludica per bambini così come sottolinea anche il presidente di sud est in fiera il signor emmolo e poi i campi realizzati per le esibizioni questri dove sarà possibile anche svolgere ipoterapia e battesimo della sella un messaggio di ripartenza sottolinea il sindaco di rosolini pippo incatasciato con nubi e sinergia di più attività in un unico contenitore abbiamo l'onore e il vanto di poter essere in quanto ad iniziativa fieristica diciamo così perché è una fiera campionaria e la città pilota per quanto riguarda tutto il compensorio ed oltre perché è una prima esperienza dove andiamo a coniugare a rappresentare le esigenze del territorio tutte un momento di ripartenza molto importante un grande contenitore dove vanno ad interagire varie attività fra cui la fiera appunto campionaria il quinto festival del cavallo che per noi è sempre stato un cavallo di battaglia in città una manifestazione di alto spessore sportivo e culturale e quindi coniugando un po' tutte queste attività che parlano anche del territorio delle attività del territorio ci sono scuole di danza altre attività iniziative culturali in questo contenitore che dichiara la ripartenza anche della nostra città vanno ad interagire tante attività che diciamo così possono andare a coinvolgere i visitatori e il pubblico positivamente nella misura in cui lo proiettano su varie dimensioni quella dicevo culturale quella ludico ricreativa e quella sportiva sicuramente e appunto per questo è bene dire che ci sarà un'area attrezzata con circa 50 stand quindi molto ricca e qui si esalterà il lato commerciale dell'iniziativa un'area cavalli dove avremo più aree di movimento cavalli di esibizione di questi straordinari animali dove privilegeremo l'amore che c'è fra il cavallo e l'uomo e dove effettivamente esalteremo le doti di questa animale che rappresenta tradizione anche per il nostro territorio e per la nostra città ci saranno le aree ludiche ricreative e culturali per le varie iniziative che si alterneranno di danza di musica e di anche letteratura per cui proponiamo una larga offerta che si impone non solo ai cittadini ma soprattutto ai visitatori non a caso il nome di questa associazione che propone e promuove l'iniziativa Sud-Est in Fiera Sud-Est in Fiera significa comprensorio e Sud-Est in Fiera vuole essere un momento di incontro di tutto il territorio fuori dai campaninisbi delle varie città affinché ci sia effettivamente uno spirito di corporativismo che in questo momento emergenziale serve più che mai e quindi il richiamo e l'invito è a tutti la nostra popolazione del territorio circostante, il comprensoriale a venirci a visitare e a visitare soprattutto queste straordinarie realtà che appartengono a questa iniziativa. Assolutamente sì un evento all'insegna della sicurezza peraltro garantita assistita da l'Associazione Professionale Polizia Locale che soprassiederà da questo punto di visto della sicurezza e della sicurezza sanitaria in particolar modo l'evento. L'assistenza dell'Associazione Professionale Polizia Locale garantirà invece il pieno rispetto delle normative anticontagio. Noi assicureremo sia dall'entrata che per tutto il percorso, per tutta la durata della fiera, tutte quelle che sono le norme anti-covid. Di conseguenza siamo organizzati con un servizio di entrata che sarà separato dalle uscite, chiaramente percorsi ben definiti dove le persone potranno assistere alla fiera ma distanziate. Sarà utilizzato un termoscanner perché misureremo la temperatura a tutti e non potendo assicurare il distanziamento sociale previsto dalle norme del DPCM dell'8 agosto, noi obbligheremo tutti a portare la mascherina pur essendo in un luogo aperto. Oltre al sorvegliare l'ingresso e l'uscita di tutte, ci saranno delle ronde appietate che faranno in modo che chi non è nello stesso nucleo familiare mantenga le distanze. Faremo un piccolo corso anche per gli espositori che ci aiuteranno in questa situazione. Attesa anche per la quinta edizione del Festival del Cavallo che sintetizza la grande passione per l'equide vissuta nel territorio, così come sottolinea il Presidente di Eventi Equestri Sicilia Luigi Runza. È un evento già affermato, fin dalla scorsa edizione ho avuto una bella collaborazione con l'amministrazione comunale. Quest'anno presentiamo la quinta edizione del Festival del Cavallo Città dei Rosolini nel massimo rispetto di tutte le direttive Covid regionali e nazionali. Abbiamo portato opere di miglioramento per rendere più accogliente l'area perché sono stati fatti tre campi equestri in modo tale da ampliare il campo visivo così che il pubblico può avere quelle distanze interpersonali uno dall'altro. All'interno di questi tre campi durante le due serate al club artisti che provengono da tutta la Sicilia si esibiranno per presentare il cavallo in tutta la sua arte, in tutti i propri aspetti. Nelle altre giornate della fiera invece all'interno dei campi si effettuerà l'ippoterapia, il battesimo della sella e giro e giro con i poni. Sì, per noi è una scommessa perché è l'unico evento in Sicilia, come già detto lei, che quest'anno si potrà fare dove verrà rappresentato il cavallo. L'anno scorso c'è stata una bella collaborazione con Fiera Cavalli Verona. Quest'anno Fiera Cavalli Verona proporrà di nuovo la fiera, un altro evento a livello nazionale, quindi noi ci rapportiamo moltissimo con loro e speriamo che tutte le direttive e le normative sanitarie vengono rispettate da tutti. Buon senso e ripartiamo tutti insieme, mandiamo questo grande messaggio di ripartenza. L'ingresso resta gratuito quindi tutti i giorni dalle 19 al 27 e sarà garantito dalle ore 18 alle ore 23. Gli spettacoli equestri previsti nei pomeriggi dalle ore 18 in poi fino a tarda sera di domenica 20 e di sabato 26 settembre.